E' stato un evento improvviso, già che si è determinato nelle primissime ore della mattina, ma già alle 6 alcune delle nostre squadre erano sul territorio a cercare in primis di monitorare la situazione. Dopodiché abbiamo anche operato correndo alcune famiglie, dando una mano un po' per il traffico, perché in alcune strade c'era stato intesamento. Alle prime luci dell'alba, quando ci siamo svegliati, abbiamo ricevuto le prime chiamate di emergenza, emergenza che hanno interessato la parte sud del comune di Castellaneta. Le due qualità più colpite sono Piccaro Grande, Orsanese, Carabella e il centro di Castellaneta Marina e alcune strade parallele della via principale di Castellaneta Marina. Ci sono stati un abbattimento di quasi un centinaio di piante e il pericolo maggiore si è avuto a Piccaro Grande, dove un'intera famiglia è rimasta chiusa all'interno con delle piante sopra la propria casa. Le condizioni per i prossimi giorni è difficile stabilirlo, diciamo che i bollettini non sono rassicuranti. Consiglio di chiamare sempre le istituzioni, il corpo forestale o la protezione civile, il 115 dei vigili fuoco, saremo pronti a darvi una mano. Un'ennesima prova per il nostro territorio che purtroppo ormai è bersagliato da tutti i tipi di calamità. Sono stati subito attivati, già dalla prima mattinata è attivato il COC, sono stati quelli da protezione civile, i vigili urbani, il corpo forestale dello Stato, come avete visto, si sono subito dati da fare. Devo ringraziare veramente tutti i volontari che anche in questa occasione hanno prestato il loro importante servizio e sono contento che anche i vertici regionali, non solo del corpo forestale dello Stato ma anche della protezione civile con l'ingegneria di Lauro sono venuti qui, hanno fatto sentire la loro vicinanza e purtroppo sono state colpite soprattutto le aziende agricole e soprattutto la parte del territorio che era già stata colpita dalle precedenti calamità, soprattutto dall'alluvione. Quindi in contrada caudella purtroppo piuttosto che la parte bassa di Castelleta andando verso Castellina Marina compreso il centro di Castellina Marina hanno subito notevoli danni e rispetto a questo stiamo facendo tutta una serie di sopralluoghi e chiederemo alla regione comunque di stare vicino, non solo a noi ma soprattutto ai nostri agricoltori. Grazie Grazie Grazie